Peccato per la mancata vittoria sfumata quasi all'ultimo respiro. 8 punti in 5 partite della gestione Zeeman. 9 gol fatti, 8 dagli attaccanti, ben 5 portano la firma di Facundo Lescano. In totale sono 14, mai così prolifico a livello professionistico. Ad un gol dal primato assoluto personale. Indy infatti l'Italo-Argentino ne realizzò 15 con la nuova Igea Virtus, stagione 2016-17, allenatore Giuseppe Raffaele, successivamente suo tecnico nel Potenza NC da gennaio a giugno 2019. Lescano dunque rivitalizzato dal Boemo che in generale dalla sfida di Catanzaro ha ricevuto le risposte che cercava. In primis sul piano della mentalità, le prestazioni esterne contro Gelbison e Messina, a prescindere dall'esito scaturito dal campo, non erano state affatto confortanti. A Catanzaro invece è piaciuto da subito l'atteggiamento, unito al ritmo e alla voglia di andare a fare la partita nella metacampo avversaria, con coraggio, personalità e sfrontatezza. Naturalmente si può e si deve migliorare, ma intanto la strada della continuità è stata imboccata. Da sottolineare la crescita costante di Raffaele, in un ruolo, quello di Mezzala, non esattamente congeniale alle sue caratteristiche. Al Ceravolo, nelle immagini, ha giocato da tutto campista, sempre nel vivo della manovra, ora a destra, ora a sinistra e in mezzo. Grandi mezzi fisici con una tecnica superiore alla media. Una bella scoperta, può rappresentare il valore aggiunto, in realtà lo sta già dimostrando. In difesa bene Milani, che va senza palla, così come chiede il Boemo ai terzidi. Sempre più a suo agio Ivan Mesic, la quarta presenza da titolare. Davvero puntuale e tempestivo lo Slovacco nelle chiusure. Stessa cosa, dicasi, per Brosco, a dir poco provvidenziale nel primo tempo su Iemmello. Insomma, c'è di che essere soddisfatti. In vista della rush finale, restano quattro gare, decisivo in chiave play-off. Terzo posto, più che mai, da blindare.